good morning anche se direi più buonasera perché qui sono le 4 25 del pomeriggio mister master maestro o semplicemente o semplicemente david linge it's january 6 2022 rp epifani buona epifania a tutti e siri naples 55 e 56 finite round 13 celsius disi mince detto non è quella giornata veramente 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 fredda con questi giorni in questo periodo o almeno per me e si invito sempre a vedere il video sul freddo che ho fatto qualche giorno fa poi riguarda i pensieri di oggi sto pensando una cosa ma è comunque non faccio il video sui pensieri perché forse questa cosa ci penso meglio domani anche perché poi il video sui pensieri ho caricato diciamo stanotte vale anche per i pensieri di oggi e vedere un po il video appunto per capire perché quindi magari i pensieri di oggi risposto al video di domani e quindi va bene così facciamo pensavo sempre a un film a un film horror ma facciamo thriller horror ma ne approfondisco meglio domani approfondisco meglio domani la questione anyway as he just see from the window e anche da quest'altra inquadratura e anche da quest'altra inquadratura poi forse magari comprende anche quello che dico magari è comprende anche quello che dico se mi fa parlare dopo di che dopo di che absolutely we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine purtroppo si è aperto veramente male questo gennaio a parte ieri in cui abbiamo avuti ma poi faccio una rettifica abbiamo avuti nel momento in cui ho fatto il report ma qualche ora dopo è sempre peggiorato il tempo quindi diciamo veramente peggio di così non poteva essere che dire dirò la frase cult ovviamente le cose posso sempre cambiare un momento all'altro batta solo e su il sì ma in questo caso francamente la vita un po' impossibile say the disc so from the mythical window vedete calare the curtain brutta oggi inutile suggerire altro and it's green roller shooter ovviamente non lo dico con enfasi in questi casi poi è vero in questi casi per forse per gli ultimi due giorni credo oggi e domani comunque ultimi tre quattro giorni non so quando lo leviamo la mezzo comunque di quasi tutto dicembre i primi di gennaio abbiamo qualcosa e può sostituire degnamente lo spiega in queste belle beautiful blue skies and gold and sunshine sui believe and blue skies and gold and sunshine from the christmas pantry almeno ci possono salvare metaforicamente un saluto anche la detta del mythical window with the white curtain and grey roller shooter and finally from my musical keyboard the amadi gx 640 ipg 625 ever a great day in all the people who follow the channel the reports mi raccomando il video sui pensieri spero avete capito la quanto riguarda il video di oggi video di ieri che vale anche per quello di oggi vedete comunque l'ho trovate e penultimo video prima di questo sui che ne ha a great day in all these people and everyone to